Salve amici del segreto, spesso avete sentito parlare di alcune leggi che sono alla base di tutto ciò che esiste, cioè è stato scritto in vari libri, è stato detto da molti personaggi famosi o mental coach in giro per il web. In questo video andremo a vedere quali sono queste leggi, ci sono molte discussioni a riguardo, c'è chi dice che sono sette, c'è chi dice dodici, quaranta, ma in questo video andremo a vedere e ad analizzare quelle che vengono maggiormente menzionate che sono dodici. La prima legge è la legge dell'unità divina. La legge dell'unità divina è una delle leggi principali, secondo la quale tutto è assolutamente interconnesso nel nostro universo. In altre parole, ogni scelta, parola, desiderio e convinzione che avete avrà un impatto sul mondo e sulle persone della vostra vita. A volte questo impatto sarà immediato, è ovvio. Altre volte invece potrebbe volerci un po' di tempo per manifestarsi o potreste non scoprire mai che si è verificato. Siamo tutti parte integrante di una cosa sola. Il Signore è una parte integrante di noi e vive in noi. Quindi il più grande vive nel più piccolo. Provate a pensare a voi stessi come parte di tutto ciò che vi circonda in modo da poter vivere in conformità con questa legge. Siamo tutti parte di una cosa sola. E la consapevolezza di questo ci rende più potenti e più empatici. La seconda legge è la legge dell'attrazione. La legge dell'attrazione ci dice chi attrae chi o chi attrae cosa. Così per avere le cose che desideri nella vita devi capire come vibrare sulla stessa frequenza di queste cose. La lezione più generale qui è che bisogna essere positivi per attirare positività nella propria vita. D'altra parte il pessimismo e la paura potrebbero portare a generare esperienze più negative in tutti gli aspetti della vita. Lavorando per vivere in modo più positivo si usa la legge d'attrazione per creare un'esistenza migliore per se stessi. La terza legge è la legge della vibrazione. Secondo la legge della vibrazione ogni particella dell'universo è in costante movimento e porta costantemente energia. Questo vale per parti enormi dell'universo come ad esempio i pianeti e le stelle ma tuttavia si applica anche agli oggetti che ci circondano. Inoltre ogni cosa ha la sua specifica frequenza di energia. Le particelle ad alta energia sono naturalmente in sintonia con altre particelle ad alta energia e lo stesso vale per quelle a bassa energia. Se il vostro obiettivo è quello di vivere una vita più produttiva e piena considerate cosa dovreste fare per aumentare la vostra frequenza energetica. La quarta legge è la legge della corrispondenza la quale è direttamente collegata alla legge fondamentale dell'unità divina. L'idea chiave qui è che gli schemi si ripetono in tutto l'universo e che si possano anche trovare schemi di rilievo che si ripetono su scala molto piccola. Cambiando l'approccio mentale, le proprie credenze che sono radicate in seguito a influenze esterne come ad esempio scuola, famiglia, eccetera i quali ci offrono un determinato modo di pensare la vita. In base a ciò che ci hanno detto e quello che abbiamo vissuto abbiamo creato queste credenze le quali ci portano i risultati che otteniamo. Se vogliamo ottenere di più, ma anche di meno dobbiamo cambiare i modelli che abbiamo creato nella nostra mente. La quinta legge è la legge del cambiamento e della trasmutazione. Questa legge afferma che tutto ciò che ci circonda è in costante mutamento. Non si possono vedere tutti questi cambiamenti perché molti di essi esistono a livello cellulare o atomico ma esistono comunque. La ragione per cui è così importante essere consapevoli di questa legge è che essa ci aiuta a vedere come possiamo innescare un cambiamento positivo. In particolare tenete presente che le vibrazioni elevate possono innescare miglioramenti nelle vibrazioni basse. Per esempio se state vibrando ad una bassa frequenza esponendovi all'alta frequenza di un amico felice e gioioso ad esempio è incoraggiante e questo innescherà naturalmente la trasmutazione dell'energia che c'è in voi. La sesta legge è la legge dell'azione ispirata che a sua volta è strettamente legata alla legge dell'attrazione. La legge dell'azione ispirata ci dice che dobbiamo perseguire attivamente i nostri obiettivi. Molte persone pensano che visualizzare un obiettivo e sviluppare un atteggiamento positivo verso di esso sarà sufficiente per sfruttare la legge di attrazione. Tuttavia dovete anche fare passi ispirati verso l'obiettivo che avete che si tratti di un passo grande o piccolo esso vi aiuta immediatamente ad attrarre quel rapporto. può essere un rapporto può essere un lavoro o maggiore abbondanza a seconda di ciò che ognuno vuole. La settima legge è la legge di causa effetto. Questa è una delle leggi più chiare dell'universo che ci dice che tutte le azioni hanno una reazione corrispondente. lo sapete già naturalmente quando facciamo riferimento ad esempio alla fisica. Tuttavia forse non avete considerato come questa legge potrebbe essere applicata agli aspetti spirituali del nostro universo. Si usa anche nelle relazioni umane. Spesso si parla di karma ossia se facciamo qualcosa di male ci si ritorcerà contro e se facciamo qualcosa di buono verremo premiati. la la vostra vita spirituale può avere un impatto sul mondo che vi circonda causando reazioni positive o negative. Allo stesso modo il vostro ambiente fisico può avere un impatto sulla vostra spiritualità sia nel bene che nel male. Chiedetevi che tipo di relazioni vedete tra lo spirituale e il fisico e come potreste volerli cambiare in futuro. L'ottava legge è la legge della ricompensa in base alla quale sostanzialmente si raccoglie ciò che si semina. è simile alla legge di attrazione però la legge di attrazione dice che l'energia positiva attira l'energia positiva e non si occupa di quantità diciamo così mentre la legge della ricompensa sottolinea l'importanza della quantità perché seminando un seme si possono raccogliere centinaia di frutti da un seme solo quindi in base alla legge della ricompensa facendo un'azione positiva si può ottenere una ricompensa molto molto più grande dell'azione fatta. La nona legge è la legge della relatività la legge della relatività tende a fare confronti tra ogni cosa quindi nessuna persona esperienza emozione o azione particolare viene valutata come buona o cattiva finché non la si guarda in confronto a qualcos'altro per esempio potreste pensare di essere poveri ma se considerate il reddito giornaliero in Africa potreste considerarvi ricchi tenendo questa legge in mente si rimane consapevoli del fatto che ci sono sempre molteplici prospettive su tutto ciò che vi succede cercando di usare queste prospettive in modo saggio potrete diventare più più grati potete nutrire la vostra gratitudine diciamo così e può anche mostrarvi dove è possibile apportare miglioramenti nella vostra vita la decima legge è la legge di polarità quando si pensa alla legge di polarità la cosa più importante da ricordare è che tutto ha un contrario e che proprio l'esistenza di questi lati opposti diciamo così ci permettono di capire la nostra vita di conseguenza quando si passa attraverso qualcosa di difficile sarà questa legge che ci aiuterà ad apprezzare veramente i buoni sviluppi che avverranno in futuro ricordandovi regolarmente di questo potete migliorare la vostra resistenza in tempi difficili vi potrà aiutare ad esempio a capire ciò che non funziona per voi in una relazione aiutandovi a trovare ciò che funziona quindi concentrandovi su ciò che funziona questo vi darà forza per migliorare le cose che non vanno e non vi porterà a distruggere i vostri rapporti ma per cambiare ciò che non va servono incentivi serve una spinta che la potete ottenere attraverso la comprensione di questa legge quindi valorizzando maggiormente le cose che vanno le cose positive la undicesima legge è la legge del genere non ha a che fare con il sesso biologico piuttosto si riferisce al fatto che ci sono due tipi principali di energia c'è un'energia positiva e un'energia negativa quindi due generi di energie tutti noi conteniamo una certa quantità di entrambe queste energie dobbiamo trovare un modo per raggiungere un equilibrio tra queste due energie se vogliamo vivere felici dovete pensare al ruolo che ogni tipo di energia sembra giocare nella vostra vita e capire se c'è un eccesso o un deficit e intervenire per bilanciarlo non ha a che vedere con la positività perché per quanto riguarda la positività non c'è mai un eccesso se pensate che tutto andrà bene è ottimo non è che dovete essere meno positivi o essere più pessimisti qui si tratta di non farsi prendere dalle emozioni la positività ha a che vedere con il pensiero come pensate come vedete le cose mentre il tipo di energia ha a che vedere con le vostre emozioni in questo caso bisogna avere un equilibrio non bisogna piangere tutto il giorno così come non si deve nemmeno cantare e ballare di gioia tutto il giorno significa quindi cercare di trovare un equilibrio tra le emozioni per riuscire a vivere in pace in armonia l'ultima legge la legge del ritmo che viene chiamata anche legge del movimento perpetuo la legge del ritmo è concentrata sul movimento in particolare si riferisce al fatto che tutte le cose accadono in cicli lo si può vedere in natura ad esempio nelle stagioni e nel processo di invecchiamento del corpo tuttavia si applica anche alle fasi della vita di una persona e riflettere su questo aiuta a guadagnare punti di vista la stagione di oggi può essere buona ma nulla è permanente quindi dovete godervi quello che avete finché dura d'altra parte forse siete in una parte negativa del ciclo in questo momento ma può essere questo questo momento stesso che vi sta preparando per un cambiamento nei cicli prossimi questa legge vi aiuta in poche parole a seminare e raccogliere a capire quali sono i momenti migliori per seminare e quali sono i momenti migliori per raccogliere non si può seminare d'inverno per capire questa legge vi invito a vedere il video che ho fatto riguardo il libro di Jim Ron relativa alle sette strategie per la ricchezza e la felicità lui spiega in modo esaustivo questa legge è una filosofia molto interessante questo era il video relativo alle dodici leggi spirituali dell'universo spero di essere stato chiaro e spero che il video vi sia piaciuto vi invito ad iscrivervi al canale a mettere un mi piace al video nelle descrizioni potete trovare anche il link del profilo instagram che uso durante la lettura di questi libri dove metto spesso delle frasi molto interessanti che aiutano a riflettere vi ringrazio della vostra attenzione ci risentiamo nei prossimi video ciao ciao